Sì, sì, dai, vai di gol, bravo di gol. Ecco si confrontano con Pitbull e Fabio. Facciare meglio, meglio, facciare la posizione, guardate il corpo, facciare non così con i piedi, così, ma i piedi così e vado a cambiare, hop, e vado a cambiare. Pronti? Via! Spazio davanti, spazio, destra e sinistra. Ecco come si allenano i nostri ragazzi, agli ordini di mister Gabriele. Sulla collina c'è mister Francesco Mancini, adesso sta riscendendo Caran, e mi pare c'è Costantini con mister Nicola. Ecco parte Michele, Michele, Michele. Ecco che con lei che accompagno la stoppa e va indietro. Via! Hop! E tocca e via! Hop! Tocca e via! Buona! Hop! Tocca e via! Via! Hop! Tocca e via! Hop! Tu tocca, dai, distanza, distanza! Hop! Tocca! Buona! Hop! Sì! Tutti i tuoi piedi adesso, eh! Destra e sinistra! Occhio! Si respira! Ci deve essere lo spazio dal compagno. Ok, per lui? Via! Hop! Tocca a sta palla! Hop! Sì! Hop! Anche di piazza! Hop! Anche di piazza, Michele! Guarda! Hop! Anche di piazza!